In guerra, si sa, i maschi danno il peggio di sé. Lo stupro è un'arma usata sistematicamente, non il raptus di qualche assatanato. Tra le piaghe mai guarite del Novecento c'è la vicenda delle migliaia di bambine, ragazze, donne coreane fatte schiave durante l'occupazione della penisola da parte del Giappone, che fece lo stesso a Taiwan, in Cina, nelle Filippine. Centinaia di migliaia di donne vennero internate in bordelli e costrette a prostituirsi. Giugun Yan Fu, donne di conforto, l'eufemismo con cui vennero etichettate da Tokyo, che anche dopo la guerra negò la questione. Nel 1965 si accordò con la giunta militare che allora governava la Corea del Sud per riparazioni economiche, non però alle vittime, ma a Seul, come finanziamento all'industria. Da allora le sopravvissute e le associazioni che le sostengono chiedono giustizia e risarcimento, cosa che ieri un tribunale di Seul ha ordinato di fare nei confronti di 16 donne, ribaltando il verdetto del 2021 di un tribunale inferiore per cui il governo di Tokyo non sarebbe perseguibile perché il Giappone godeva dell'immunità di stato sovrano. No, i reati commessi in Corea vanno perseguiti anche se a commetterli a un paese straniero, ha deciso il giudice. Per la ministra degli estri di Tokyo, Kamikawa, la sentenza viola la legge internazionale, ma il Giappone non si è ancora assunto la responsabilità storica di un tale abominio.